Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici! Dal mattino annunciamo a tutti che Dio è vivo, che Dio ci ama, che Dio è al nostro fianco e che Dio per noi ha una parola meravigliosa che cambierà questa giornata. Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, dal 35-38 e poi 10-1-6-8 In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoge, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li invia, ordinando loro, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Amen. Insieme leggiamo anche il profeta Isaia, capitolo 30, dal 19 al 26. Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica, il Signore ti farà grazia. Appena udrà, ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo Maestro. I tuoi occhi vedranno il tuo Maestro. I tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela. Casomai andiate a destra o a sinistra. Allora Egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno. E anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e sostanzioso. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangieranno biada assaporita, ventilata con la pala e con il vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d'acqua nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte di più, come la luce di sette giorni, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Cari amici, oggi proseguiamo nell'ascolto della parola non solo del Vangelo, ma anche del profeta Isaia. Abbiamo acceso domenica scorsa la luce della candela dei profeti. E sono proprio i profeti, in particolar modo il profeta Isaia, che sta stimolando la nostra vita di fede, giorno dopo giorno. Quanto è importante, carissimi amici, aggrapparci alla parola di Dio. Quanto è importante mettere al primo posto nella nostra vita di credenti, di cristiani, la sua parola che si fa carne, perché è dalla sua parola che noi veniamo. E come dice San Girolamo, l'ignoranza di questa parola è l'ignoranza di Cristo. Quanto meno leggiamo la Bibbia, tanto più non conosciamo Dio. E parliamo per sentito dire. Ma quando la leggiamo, come anche oggi lo abbiamo fatto, conosciamo Dio. E questo Dio non è il Dio dei nostri pensieri, ma è il Dio della storia, è il Dio della vita, il Dio che duemila anni fa ha mandato Gesù. Un maestro, un uomo che ha insegnato, che il Regno di Dio è in mezzo a noi. Un uomo che ha cercato discepoli, e anche oggi li cerca, che vadano nella sua vigna. Ma questi discepoli non sono solo i sacerdoti, i consacrati. I discepoli sono ogni battezzato, ogni persona che crede in Lui. tutti siamo chiamati a portare il Vangelo. Chi nel proprio lavoro, chi nella propria professione, chi nella propria famiglia, chi nella propria casa, a dare testimonianza. Ma Gesù manda i discepoli in un modo molto forte. Li chiama a sé e dà il potere sugli spiriti impuri e la capacità di guarire ogni malattia e ogni infermità. Quante volte noi siamo sordi a queste parole. Le leggiamo? Non le capiamo, non le viviamo, o pochissimo, e quindi non le proclamiamo, non ci crediamo. E Gesù quando manda i Suoi discepoli, dice andate strada facendo predicate e dite che il Regno di Dio è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gesù dà autorità al cristiano. Dov'è la nostra autorità, fratelli e sorelle? Spesso viviamo di una fede romantica, fatta di pensieri, di sentimenti. Io credo che Dio c'è, che il cielo mi aiuti. E lì finisce la nostra fede. Ma Gesù è concreto. Io sono la medicina, dice. Nel mio nome scaccerete i demoni. Nel mio nome imporrete le mani ai malati e guariranno. Non associamo le guarigioni soltanto a ciò che non è cristiano. Quindi alle sette, ai maghi, eccetera. E' Gesù che è Dio. E' Dio al potere di guarire. Non prendiamo solo tutti gli avvertimenti di Gesù, di San Paolo. Nelle lettere verranno i falsi profeti nel mio nome. No. O invocheranno il mio nome, ma non è così. E guariranno. Gesù è Dio ed è colui che è venuto a guarire la nostra vita, a intervenire nella nostra vita, a liberarci. E' un Dio concreto. Abbiamo vissuto secoli di razionalismo, tanto che oggi la nostra fede è uno spirito disincarnato. Ma il Gesù dei Vangeli, quando lo leggiamo quotidianamente, non è disincarnato. E' ciò che è più carne di quanto noi potessimo mai immaginare. ed è più efficace di ogni medicina che prendiamo, di ogni cura che facciamo, di ogni seduta psicologica che possiamo fare con un professionista. Dio ha creato il mondo, ha creato te, ha creato me e ci ha dato il suo Figlio per essere salvati, guariti e liberati. Che questo avvento possa essere un'attesa di segni concreti. Se non ci sono segni, fratelli e sorelle, nella nostra vita, allora chiediamoli a Dio. O chiediamo che apra i nostri occhi per vederli. E oggi Gesù ci ha fatto una bellissima promessa attraverso la Sua parola. E nel profeta Isaia dice «Non si terrà più nascosto il tuo Maestro, i tuoi occhi lo vedranno». Chi è il tuo Maestro? Chi è il mio Maestro? È Gesù, colui che anche oggi ha riempito il mio cuore di gioia, colui che anche oggi mi dona la liberazione da ogni peso, da ogni catena e dice che concederà la pioggia nel tuo terreno che è deserto. Oggi ti porta una nuova acqua viva. E la promessa di Dio per me e per te oggi è questa, che è lo slogan. Tu non dovrai più piangere. Amen? Perché il Signore interviene. Quindi deponiamo le vesti di lutto, di afflizione, di scoraggiamento e di sperazione e confidiamone, Signore, con tutto noi stessi. Dio è fedele, Dio non ci abbandona, tu non dovrai più piangere. Amen. Vieni, oh Signore Gesù, Maranatà, abbiamo bisogno di Te nella nostra vita, Signore. E noi proclamiamo e crediamo che il tuo regno è in mezzo a noi. E tu sei qui, vicino a me, presente nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Signore, io credo alla parola del profeta Esaia, credo al tuo Vangelo, credo nei miracoli, credo nelle guarigioni, credo nella tua liberazione che mi doni oggi e doni ai miei cari. Credo che tu sei il Dio dell'impossibile. Signore, fa che io viva la mia fede, non in modo tiepido, superficiale, ma che io la viva con tutto me stesso, che io possa testimoniare agli altri che è bello vivere con te, che con te ogni difficoltà la si vive nella gioia, nella pace, nella serenità, perché tu risolvi i miei problemi. fa che io possa testimoniarlo oggi a coloro che incontrerò. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, non temiamo, non piangiamo più, perché Dio è con noi, è al nostro fianco e si vuole manifestare e i nostri occhi vedranno questo maestro. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio dalla coinonia Giovanni Battista, Oase di Bienna. A domani. Ciao. A te Signore innalzo l'anima mia in te confido A te Signore innalzo l'anima mia in te confido Fammi conoscere Signore le tue vie insegnami i tuoi sentieri guidami nella tua fedeltà e istruiscimi perché sei tu il Dio della mia salvezza A te Signore innalzo l'anima mia in te confido Buono eretto è il Signore indica ai peccatori la via giusta guida i poveri secondo giustizia a te Signore